Il voto per le amministrative, i partiti guardano anche più in là le eventuali correzioni all'Italicum prima delle prossime elezioni politiche. Tra 5 Stelle e PD continua lo scontro, il Movimento da sempre contrario alla legge considerata incostituzionale, ora chiede che non venga modificata a suo danno. I democratici ribattono, hanno capito che funziona. Il servizio di Monica Giandotti. Ma quell'ordine del giorno era realmente una provocazione o a qualcuno nel Movimento 5 Stelle l'Italicum piace? Una trappola, a noi l'Italicum non piace, abbiamo votato contro e non vogliamo i giudici della Corte Costituzionale pro Italicum, abbiamo firmato anche dei ricorsi. Il discorso è che questi del PD dicono ogni giorno che l'Italicum è la migliore legge possibile, quindi non la vogliono cambiare. Ecco, ieri hanno votato per cambiarla. Perché? Perché hanno paura, pensano che se il Movimento 5 Stelle dovesse vincere a Roma saranno costretti a cambiarla. Una trappola quindi contro cui bisognava votare contro, come infatti è successo. L'ordine del giorno, firmato da Di Battista e altri, con cui si chiedeva di non modificare l'Italicum, viene bocciato in aula anche con i voti dei 5 Stelle. Ma presentarlo, dice il deputato Grillino, era necessario per dimostrare le vere intenzioni dei democratici. Il Movimento fa paura, spiega Di Battista, il PD vuole cambiare la legge per contrastare noi. Una scelta, quella di sottoscrivere un ordine del giorno con questi contenuti, che però ha creato non poche polemiche, perché la strategia adottata ha rischiato di non essere compresa, compresa, soprattutto fuori dai palazzi. La legge elettorale per i grillini è incostituzionale, ma la convinzione per alcuni è che l'Italicum, con i sondaggi favorevoli, possa rappresentare concrete chance di vittoria. Formalmente però in casa 5 Stelle si continua ad avversare la riforma, anche sul piano dell'elezione dei giudici per la Corte Costituzionale. Renzi attaccano in questi giorni i grillini, vuole militarizzare la consulta per farsi dare l'ok sulla legge elettorale. I 5 Stelle rimangono fermi sul loro candidato Franco Modugno, ma si dicono aperti ad altre alternative sulla Terna. Servono persone super partes, dice Di Maio oggi. Da mesi stiamo chiedendo al PD di farci un nome che non abbia avuto un trascorso politico. Noi siamo veramente aperti, abbiamo un candidato eccellente che è Modugno, tra l'altro tutti nel palazzo dicono il vostro candidato è ottimo, però non lo votano. Però siamo aperti assolutamente. Certo, se il Partito Democratico continua a preferire ad un'apertura trasparente la candidatura dell'avvocato di Berlusconi e Verdini se lo votassero tra di loro.